Come ogni anno è fitto il calendario degli appuntamenti che vede impegnato l'Arcivescovo di Milano Cardinale Angelo Scola. Domani 1 novembre alle ore 11 in Duomo il Pontificale nella solennità di tutti i Santi. Nel pomeriggio alle 15.30 l'Arcivescovo sarà il cimitero monumentale per la celebrazione eucaristica dei defunti. Sabato 2 novembre alle ore 10 nella Basilica di Sant'Ambrogio si terrà la celebrazione eucaristica per i defunti di tutte le guerre alla presenza delle autorità militari in rappresentanza delle forze armate. Il pomeriggio alle ore 15.30 il Cardinale Scola sarà il cimitero di Chiaravalle per celebrare i defunti. La celebrazione verrà replicata alle 17.30 in Duomo. Il comune di Milano ha previsto per i cimiteri cittadini l'apertura dalle ore 8 alle 18. Il cimitero maggiore aprirà anche le porte laterali con ingresso dalle 8.30 alle 17.15. Anche l'ATM si è attrezzata per far fronte ad una maggiore richiesta di mezzi pubblici. Durante il ponte saranno potenziate le linee di collegamento con tutti i cimiteri. Aumentate le frequenze delle linee speciali 171, 172, 173, 174, 175 e 176. Il cimitero di Chiaravalle è raggiungibile con i bus della linea 77, l'Ambrate con la linea 55, il cimitero maggiore con le linee 14 e 40 e il cimitero di Bruzzano con i bus 40, 52 e 70. Per i radiobus di quartiere il servizio sarà regolare tutte le sere dalle 22 alle 2.